Musica Musica Amici all'ascolto di Telepace, bentrovati a Missione Mondo, questa nuova puntata. Siamo con degli ospiti che, anzi, lascio la parola a loro stessi che si presentino e cominciamo qui davanti a me. Buongiorno, sono Roberta, la Santa Margherita Ligure. Io sono Elena, da Rapallo. Io sono Francesco, da Rapallo. Bene. Io sono Marco, Marco da Chiavari. Francesca, da Moneia. Marco da Rapallo. Ecco, mi chiederete che cosa li unisce? Loro, appunto, sono tanti, oggi abbiamo anche tanti ospiti. Loro sono uniti da un viaggio che hanno svolto, che li ha visti, appunto, coinvolti nei mesi scorsi, in un paese che ormai per noi è amico, conosciuto, conoscitissimo, anzi. Cioè il Cuba. Siete stati a Cuba in un viaggio, appunto, ci direte com'è nato, che cosa. Però per noi è molto importante, tengo a precisare e a ricordare, perché Cuba è questo paese che da tanti anni ormai siamo ecoregati, soprattutto con la diocese di Chiavari, di Genova e di Savona, perché abbiamo delle missioni lì. E quindi una delle cose che li unisce è anche questo. Allora, partiamo un po'. Io dico sempre che il viaggio comincia, in realtà, molto prima che si parte. Anzi, a volte sono anche anni e anni che uno sogna un viaggio. Allora vorrevo chiedere a Marco Dietro se ci può dire quali sono state le motivazioni di partenza. Ecco, perché hai deciso proprio di fare questo viaggio? Diciamo che non l'ho chiesto subito io, mi è stata fatta l'offerta, aprile circa, prima di partire, perché siamo andati ad agosto dell'anno scorso. Mi è stata fatta questa offerta e subito sono rimasto un po' senza parole, non me l'aspettavo. Però un po' per l'avventura, per il viaggio in un posto così distante, e un po' per conoscere un mondo nuovo, con un contesto sociale nuovo, anche un modo diverso, secondo me, come poi vedrò, di vivere la fede, mi ha spinto un po' a partire. Ecco, la curiosità spesso è quello che anche un po' spinge le persone a partire, e a me mi ricordo sempre che la curiosità si dice in francese che è la mère de la science, la curiosité c'è la mère de la science, cioè la curiosità è proprio quello che è il motore della conoscenza e della ricerca, e questo è molto bello, veramente, ed è importante, lo dico sempre, chi ci ascolta, è importante cortivare questo spirito di curiosità, di non quella forma negativa, ma proprio per conoscere, e quindi davvero grazie anche per questo, perché è importante suscitare questa curiosità dentro di noi. Ecco, accanto a te c'è anche la Francesca, non so se vuol dirci qualcosa sulle motivazioni di partenza. Le motivazioni di partenza sono molte, tra cui appunto anche la curiosità, il desiderio di conoscere, visitare posti nuovi, ma in questo caso per il viaggio di Cuba la motivazione è un'altra, un po' più profonda, perché rientra in un progetto un po' più, diciamo, grande, un po' più esteso. Innanzitutto non sono partita da sola, ma sono partita con Marco, e dopo aver fatto un'esperienza l'anno prima molto grande, quale il Cammino di Santiago, insieme, e l'idea appunto di Cuba è nata proprio sulla scia del cammino, sulla scia di questa prima grande esperienza. Ed è per questo appunto che anche quest'anno, l'anno prossimo, abbiamo in mente un altro grande viaggio, speriamo appunto di riuscire a organizzarci, di riuscire appunto a portarla al termine, che è appunto l'Africa, che è una grande meta. E sono viaggi appunto non casuali, ma sono appunto mirati all'insegna proprio della curiosità, della scoperta, della condivisione di valori. Anche questo è un aspetto a mio avviso importante, perché appunto tante volte noi diciamo uno parte e va lontano, ma in realtà è anche sempre spesso per ritornare a sé, per ritornare a qualcosa che poi comunque ci guida, ci costruisce. E credo che, grazie per questa sottolineatura, perché è importante, è importante che uno non va semplicemente soltanto per conoscere le cose, vedere le cose diverse, ma spesso è anche per costruire qualcosa di sé. Ecco, qui davanti a me c'è Francesco, anche, cosa, ci puoi dire qualcosa sulla motivazione? Ma, sì, diciamo che tutto è iniziato da una chiamata, diciamo, no? Quindi c'è stato qualcuno, che è stato Don Claudio, che ci ha proposto di fare questa esperienza, che anche per me era stata non pensata, non programmata. E quindi il partire è stato motivato un po' dal volere in qualche modo buttarsi in un'esperienza nuova, in cui tu sei stato coinvolto. E anche col desiderio di andare per trovare qualcosa. E questa cosa l'ho trovata, posso dire, negli incontri con la gente, nel lavoro con i bambini, nell'incontro con una fede che veniva celebrata, vissuta, anche in un modo un po' diverso rispetto al mio. Quindi l'incontro con una fede gioiosa, entusiasta, no? E questa è stata un po' una ricarica personale, ma anche di noi, perché la cosa bella di questo viaggio è anche che non eravamo soli, ma eravamo insieme a vivere questa esperienza. Ritorneremo su questi aspetti, soprattutto appunto della fede, ma intanto vorrevo chiedere alla nostra amica appunto Francesca, e scusate Roberta, vorrevo chiedere come, che impatto le ha fatto proprio arrivare lì, in una realtà immagino molto diversa da quella che lei è abituata qui. A Cuba c'è la semplicità del vivere, non ci sono troppe sovrastrutture, e quindi la gente davvero apprezza quello che ha, soprattutto quando non lo ha ovviamente, quando arrivano le uova, per esempio, al negozio, vedi, e nonostante tutte queste difficoltà, c'è una grande gioia di vivere, un'adesione alla vita così come si presenta, che forse noi abbiamo un po' perso. E questo è un aspetto della vita dei cubani che è davvero affascinante per noi, che siamo molto più viziati, e non andiamo tante volte oltre tutto ciò che possediamo, non riusciamo ad apprezzare quello che invece ci viene dato così, gratuitamente. E credo che questo sia davvero educativo, anche per una persona come me, che insomma di cose ne ha viste, e anni ne ha, ecco, e quindi magari non ho più i sentimenti di sorpresa che hanno questi giovani. Eppure il cuore, davvero, il cuore non è per citare quell'altro che diceva che il cuore ha delle ragioni, che la ragione stessa non comprende. Io penso che similmente il cuore veramente non smette mai di stupirsi di fronte alle cose belle. E questo credo che lei ne ha testimoni. Questa è la giovinezza del cuore, è veramente così, è veramente così. Ecco, quindi anche chi ha una certa età, No, deve andare. Alla fine tutti abbiamo una certa età, deve sapere che questa è un'esperienza che è veramente per tutti, e fa bene a tutti. Assolutamente. Anzi, le mie compagne, c'è Anna che è un pochino più anziana di me, Barbara che è un pochino più giovane, e poi c'era anche Don Valerio di Santa Margherita della parrocchia di San Siro, ma eravamo davvero tutti pieni d'entusiasmo, pieni d'entusiasmo. Ecco, quando sono i cuori che parlano, che si ascoltano, che guardano, davvero le cose stupiscono sempre, e sono sempre belle. Assolutamente. Ecco, accanto a lei c'è Elena, Elena, ecco, l'impatto iniziare, era la prima volta che anche tu andavi. L'impatto, cioè, diciamo che la cosa che mi ha stupito, il primo giorno, quando poi ci siamo svegliati, è come se fossimo lì già da tanto tempo, cioè, è come se quei passaggi, quei volti li avessimo visti già più di una volta, e non fosse prima. Forse sarà, appunto, anche il modo in cui ci hanno accolto, ci hanno accolto come se ci avessero sempre conosciuto, come se fossi stata una loro compagna di classe che non vedevano da tempo. E questo è stato bellissimo. L'impatto, sicuramente, quando noi abbiamo tutto, come diceva appunto lei, noi abbiamo tutto, e a volte ci stupisce quando gli altri non ce l'hanno. Cioè, la banalità, magari, di un cellulare, piuttosto che un televisore, che per noi è la cosa normalissima averlo in casa, invece lì magari non è così scontato. Però, nonostante questo, quanta gioia ho visto nei loro volti. Cioè, ho visto tanta povertà a Cuba, tanta quanta era la gioia nelle persone. E questo è fantastico. Magari noi ci lamentiamo per cose banali, che invece per loro sono assolutamente inutili. Cioè, se ancora più banali di quello che noi ci lamentiamo, non so se puoi dire qualcosa anche di più preciso, un pochettino, quali sono stati le povertà, soprattutto che veramente hai notato, che ti hanno un po' corpito, maggiormente, perché dici appunto è molto povero, e io so che è una povertà che, come dicevi, alla fine ti svera anche una certa ricchezza. Ecco, quali sono, descrivendo un pochino il Cuba così, dal tuo punto di vista? Beh, le povertà, sicuramente le case, le abitazioni. Abbiamo visto delle abitazioni che, non so neanche se potremmo chiamarle così, cioè, magari dove i tetti erano completamente sfondati, o dove non c'era neanche una porta, piuttosto che... e questo, cioè, per noi che magari invece siamo abituati a avere la nostra casa, il nostro letto comodo, insomma, questo è stato un impatto abbastanza... Ecco, quindi avete dovuto anche un pochino fare i conti con queste lealtà. eppure, eppure, lo chiedo a Marco dietro, eppure case semplici, ma carolose, case, come dire, accodienti, vero? Sì, assolutamente. Durante il periodo in cui siamo stati a Cuba con Francesca, Don Paolo e Don Michele ci hanno accompagnato, spesso durante i loro viaggi, durante i loro incontri all'interno della parrocchia, e spesso entravamo nelle case, venivamo accolti in modo molto caloroso, accogliente. alle persone, per le persone era una grande gioia che noi fossimo lì. E una cosa che mi ha colpito molto, per esempio, la presenza delle sedie all'interno della casa. Molto spesso all'interno della casa vi era una, due, due sedie, e quelle sedie venivano destinate a noi. E se noi non ci sedevamo, le persone rimanevano male. Noi magari per cortesia dicevamo, sedetevi voi, perché magari erano persone anziane. E loro invece volevano assolutamente che ci sedessimo noi. Questo mi ha colpito molto, c'è un grande rispetto per gli ospiti, è una grande gioia, una grande accoglienza. Quindi nonostante la povertà, la gioia dell'incontro per loro è fondamentale. Ecco, questa è molto importante nei paesi poveri, davvero quando io, il mio è un paese, uno dei paesi più poveri del mondo, e lo so che a volte a casa si tiene qualcosa per dire questo è per l'ospite. Perché come si dice, quasi in tutte le culture, l'ospite è veramente sacro, l'ospite è un dono di Dio. E questo è molto importante. E si vede che anche nelle povertà, anche nelle povertà materiali, i valori umani spesso rimangono. Ed è molto importante questo. E credo che forse per questo che il viaggio allora diventa anche significativo. Perché quella povertà ti fa riscoprire anche delle cose, degli aspetti che a volte si rischierebbe di dimenticare. Ecco, accanto a te c'è Francesca, anche su questo aspetto che vi vedo tutto un po', che quasi quasi volete dire qualcosa, ma perché sicuramente è una cosa che vi ha colpito, questo aspetto anche della povertà, l'aspetto sociale, di come quello che pensiamo appunto è un ostacolo, poi diventa anche qualcosa che arricchisce. C'è qualcosa di questi aspetti della povertà che ti sei portato dietro con me? Come qualcosa anche che ti arricchisce nella tua vita? Sì, innanzitutto, forse quello che per noi è povertà, per loro è semplicità, per loro è quotidianità. Quindi il viaggio è importante perché? Perché ti fa conoscere non soltanto nuove culture, persone e ambienti, ma soprattutto nuovi punti di vista. Quindi noi siamo andati, siamo partiti, siamo arrivati a Cuba con il nostro punto di vista, con il nostro concetto di abitazione, con il nostro concetto di quotidianità. E lì ci siamo resi conto che per noi è povertà, però probabilmente per loro appunto è semplicità, è quotidianità. Sì, indubbiamente il loro modo di vivere, il loro stile proprio di vita è un esempio, nel senso che ti fa proprio ricondurre tutto al concreto, tutto all'essenziale. Ti rendi conto che davvero noi viviamo di tante cose superflue. però secondo me è proprio una cosa importante proprio sul concetto di abitazione, proprio in ogni paese che vai incontri un'abitazione, proprio una struttura, proprio parlo anche dal punto di vista architettonico, diversa. E quindi è normale che si creino delle disfunzioni, anche dal punto di vista concettuale. Quindi ho capito proprio quanto è importante appunto viaggiare, è proprio importante di conoscere per ampliare i propri punti di vista. Perché c'è proprio concetti diversi di casa, abitazione, capanna e così via. Io credo che questo, per dire l'importanza di quello che ci restituisce, perché vedere la realtà, vedere il mondo solo da una prospettiva, io credo che è una delle grandi povertà che a volte abbiamo nella vita. Perché poi rischiamo anche di assolutizzare il nostro punto di vista senza sapere che la realtà davvero si può guardare in tanti modi, in tanti punti di vista e tutti non fanno che contribuire per vedere meglio la realtà. E quindi grazie per questo. Tra le cose essenziali che si incontrano mi diceva accanto a te Marco la gratuità. Cosa ha voluto dire questo? A me ha colpito molto la gratuità perché noi entravamo in queste case nei nostri giri quotidiani nelle varie periferie dei paesini e ti accoglievano pienamente, facevano il massimo per farti sentire a posto, a casa tua, appunto come diceva prima Francesco, ti lasciavano tutte le sedie, proprio il massimo dell'accoglienza tra le varie persone anche, dove c'era anche una povertà secondo me che gli altri non hanno detto, secondo me anche una povertà più sociale, secondo me, perché molto spesso si vedevano delle famiglie dove il padre ad esempio non c'era o chissà dove andava per la giornata e quindi spesso si vedevano madri molto giovani con bambini, bambine. Con tanti bambini a volte. Con tanti bambini. Però c'era una forte solidarietà anche con i vicini di casa, si aiutavano, magari da noi le riunioni condominiali sono un po' più caotiche, invece lì c'è molta più amicizia, fraternità, ecco. E ti sentivi anche tu in questo contesto, accolto, non mi sono mai sentito quello che viene da fuori o il diverso, ma sempre a casa, ecco. Ecco, avete incontrato, l'avete già nominato, lì ci sono alcuni sacerdoti della nostra diocesi, avete conosciuto, incontrato Don Paolo e poi c'è anche un sacerdote di Genova, c'è un altro di Savona. Ecco, facciamo un passo avanti, entriamo dentro la realtà anche spirituale, pastorale, ecco. Dal punto di vista, chiedo a Francesco, dal punto di vista della fede, ecco, che realtà avete trovato? Che chiesa avete trovato? Allora, mi viene da rispondere una fede bella, nel senso che caratterizzata da una semplicità gioiosa. Il lavoro che fanno i nostri sacerdoti, quando ci siamo stati noi, eravamo con Don Federico Tavella, che si trovava a poter servire in quelle terre durante il periodo estivo, e c'era Don Michele, che è il parroco proveniente dalla diocesi di Savona. Loro due, e poi insieme al sacerdote di Genova, si occupano di un territorio molto grande, nel senso che sono in tre su un territorio che sarà grande come la nostra diocesi, se non ancora di più. È formato proprio da tante piccole comunità, no? E quindi in alcune di queste comunità la messa a l'eucalistia viene celebrata anche solo una volta all'anno, una volta al mese, a seconda del calendario che loro propongono. Però ogni volta entrare dentro queste comunità era davvero molto forte, perché era un momento da loro desiderato, aspettato, preparato. e diciamo si viveva proprio una fede che nasce anche dalla storia di questo popolo, un popolo che davvero ha vissuto diversi momenti anche un po' difficili in cui la fede non era pubblica, uno non poteva esporre la propria fede nella libertà. Però vedevi davvero che se dovevamo in qualche modo essere noi con la nostra presenza, poter essere un po' dei testimoni al loro servizio, cioè io ho sentito che in verità sono stato aiutato, più che aiutare, aiutare non so cosa ho potuto fare nella pratica, però ho ricevuto tanto. Ecco, una realtà molto grande come già come territorio è tutto e da questo punto di vista io vedo la realtà qui da noi dove ci si aspetta tutto quasi dal paroco, tra virgolette, molto dal paroco, invece lì credo che è molto diverso. Sì, è molto diverso perché c'è davvero una grandissima responsabilità, mi piace chiamarla così da parte della gente comune. Noi abbiamo avuto modo di incontrare delle persone che è come se fossero dei catechisti sociali, mi piace chiamarli così, cioè delle persone che davvero si occupano della comunità da un punto di vista spirituale ma anche sociale, costruendo proprio una rete di relazioni da custodire e loro sono proprio coloro che svolgono la funzione da catechista, viene davvero il catechista puro, quello che annuncia il Vangelo in mezzo alla gente con cui vive. Perfetto, mi viene quasi da dire un missionario a casa che poi appunto la missionarietà non è tanto soltanto andare e cominciare proprio a casa. Ecco, una fede bella diceva e Elena può aggiungerci qualcos'altro su questa la qualificazione proprio della fede che avete incontrato conosciuta a Cuba? Ma io direi anche una fede allegra e cantata. Cioè, questa è una cosa che a noi ho stupito tantissimo. Eravamo in cattedrale durante l'ordinazione di un sacerdote e tutta la chiesa cantava. Tutta. E questa cosa qua ci ha stupito. Ed è stato un momento bellissimo. Un momento di unione, di partecipazione. Cioè, tutti erano lì a questa ordinazione e cantavano in questo momento. Poi, cioè, sarà i tipi di canti, sarà anche la lingua con lo spagnolo, una lingua molto sembra allegra. E i momenti della messa erano veramente vissuti come senza guardare l'orologio, aspettando questo momento per poter solo vivere a pieno. E veramente bello. Cioè, proprio il modo in cui questa fede è vissuta a me ha stupito. anche perché noi abbiamo fatto l'ultima settimana un lavoro con i bambini, tipo una specie di oratorio che e questi bambini quali abbiamo accompagnati a visitare gli anziani e i malati. E questa signora qua diceva a questi bambini di andare a messa, di frequentare la chiesa perché lei a loro età non l'ha potuto fare. E a volte dico quanto per noi sia facile entrare in una chiesa e quanto per loro sia stato difficile anche come diceva Francesco. Quindi hanno questa semplicità questa gioia di viversi la fede che a me ha insegnato tantissimo. Io mi sono portata a casa un bagaglio molto più grande di quello che mi ero portata. Bene, grazie già su questi aspetti di questa fede che veramente non è soltanto perché lo dite ma è soprattutto per quello che si sente dentro di voi perché qui davvero io percepisco ma credo che ci ascolta tutti percepiscono l'entusiasmo anche col quale lo dite che sembra impresso proprio scritto nei vostri cuori ed è grazie restituirci questi aspetti una fede bella gioiosa cantata mi verrebbe da dire danzata anche perché anche la danza è importante in alcune realtà del mondo Francesca diceva appunto viaggiare anche per vedere i punti di vista le modalità nella mia non solo si canta ma si bala anche e questa è veramente una fede coinvolgente cioè che coinvolge tutte le dinamiche della vita e questo è molto importante Roberta vuole aggiungere qualcosa su questo aspetto della fede che ha conosciuto ha incontrato a Cuba? Sì è una fede fresca anche lì come la vita più semplice senza troppe sovrastrutture è una fede che aderisce ad un'esigenza del cuore dell'animo proprio non è così sovrastrutturata e quindi c'è una freschezza che forse noi abbiamo un po' perso e dicevamo appunto questa fede che è veramente coinvolgente coinvolgente hai notato qualcosa altro su questa che veramente ha colpito il tuo modo di vivere la fede a me proprio nel discorso della fede ha colpito proprio una cosa a che punto si lega appunto alla fede l'orario delle messe ci sono state alcune messe celebrate proprio a luna del pomeriggio a luna e mezza in giornate veramente caldissime che sembrava veramente di impazzire e ho detto se queste persone accettano appunto si spostano da casa fanno dei chilometri per assistere ad una messa celebrata non la sera o al mattino magari nell'orario in cui c'è un po' più fresco ma proprio a luna del pomeriggio perché magari quello è l'unico momento in cui Don Paolo Don Michele sono disponibili perché poi la loro giornata è impegnatissima se queste persone si spingono così tanto fino a quell'ora perché era veramente assurdo allora c'è qualcosa di forte c'è qualcosa che mi spinge di più profondo che veramente muove tutto perché io per esempio qui in Italia a me si è comunque celebrata come per via ad agosto in una giornata callissima a luna del pomeriggio in una chiesa che veramente magari anche con tante persone non l'ho mai visto magari si celebra o la sera o al mattino e queste persone magari si spostavano facevano dei chilometri a piedi o appunto prendevano dei mezzi spesso facevano anche autostop perché appunto i mezzi pubblici non ci sono almeno lì non c'erano allora c'è qualcosa di forte che li spinge che li fa muovere io sorrido perché in realtà può sembrare una cosa piccola ma piccola non lo è perché io come sacerdote ma credo tanti sappiamo quanto è difficile stabilire anche gli orari delle messe pur avendo anche poche messe a volte poche comunità ecco che quella delle sette è troppo presto otto è troppo presto e alle dieci e mezzo undici è troppo presto è troppo tardi chi deve poi mangiare a mezzogiorno e quindi questa può sembrare ovvio e scontato ma non lo è non lo è proprio ed è molto importante perché soprattutto come dicevi dice proprio che cosa c'è in gioco che cosa è importante che al di là dell'orario queste persone gioiscono nella possibilità di potere anche a luna celebrare la messa e quindi davvero celebrare e vivere la loro fede anche in questo modo quindi grazie anche per questa piccola sotteniatura perché dico tra virgolette piccola ma grande grande perché mi chiedo appunto anch'io se nelle mie parocchie metteste la messa a luna cosa cosa succederebbe quindi grazie per questo aspetto ecco abbiamo già sottolineato tantissime cose dal punto di vista appunto di questa modalità di vedere di vivere la fede ma dal punto di vista torniamo un pochino proprio su di voi ecco in generale perché poi magari quando vi faccio le domande io un po' vi disoriento ecco in una parola in una parola Marco davvero questo viaggio che cosa ha significato per te insieme ecco questo viaggio mi ha donato degli occhi nuovi uno sguardo nuovo che porto nella mia quotidianità io credo che sia importante quando si intraprendono dei viaggi di questo tipo quando si vivono esperienze di questo tipo portare nella propria quotidianità nel proprio mondo nella propria giornata quello che si è imparato ed è uno sguardo nuovo il mio uno sguardo che ha perso il superfluo che guarda alla vera gioia dell'incontro con le altre persone che è quello che ti insegna il popolo il popolo cubano grazie io normalmente appunto verso la conclusione non mi piace commentare quello che veramente custodite come la cosa più bella è che appunto nella generosità nella gratuità fate dono agli altri la stessa domanda a chi vuole rispondere veramente che cosa si porta dietro da questo viaggio così ci avviamo verso la conclusione ma lasciando questo dono grande ecco Roberta la conferma della bellezza che esiste ancora in questo mondo che esiste nelle persone e noi che siamo una società un po' senza speranza al momento dovremmo davvero guardare fuori di noi per ritrovare questa speranza e questa bellezza questo è quello che sento di condividere ma io mi sono portata a casa dei volti volti che non dimenticherò mai che porterò nel mio cuore volti allegri tristi però persone che mi hanno lasciato tanto grazie Francesco ma per me la parola è cambiamento cambiamento nella speranza perché sono tornato a rapallo con una serie di incontri di relazioni che in qualche modo sento che ha tolto via in me qualche parte magari che era forse un po' dura forse che aveva a che fare con un certo modo di vivere anche la fede le relazioni ecco e quindi è proprio davvero è proprio vero il fatto che viaggiare conoscere incontrare può cambiare le persone e poi il viaggio in qualche modo non è finito quando ho messo piede in Italia ma sta proseguendo ancora insieme a me con i ricordi e le immagini che ho grazie Marco a me mi sono tornato a casa con le parola gratuità perché in un mondo dove purtroppo spesso le cose sono mosse dal denaro oppure dal business invece io ho vissuto tutto gratuitamente perché creare relazioni stringere nuove amicizie non costa nulla ed è quello che ho fatto io per tre settimane a Cuba e poi mi viene in mente anche gratitudine sempre per lo stesso motivo perché ho ricevuto più di quanto donato sempre con gratuità senza guardare altre un fine secondario ma solo per per l'amicizia e per il bene fraterno dell'uno e dell'altro mi viene da da salutarvi con le tue stesse parole grazie grazie davvero della vostra presenza grazie per quello che ci avete condiviso a me che appunto non sono andato ancora a Cuba e poi soprattutto non sono andato con voi in qualche modo mi avete fatto fare un passo un pezzo del vostro viaggio e mi verrebbe da sintetizzare quello che ho fatto e che faccio con voi in questo momento la parola seme ecco è stato un momento di semina ha lasciato un seme dentro di voi e vi auguriamo davvero che questo seme continui sempre a crescere a crescere e a portare i suoi frutti quindi a tutti voi che ci ascoltate vogliamo salutarvi appunto anche con voi ringrazio Roberta Elena Francesco Marco Francesca e l'altro Marco e arrivederci alla prossima magari con un racconto per un altro viaggio come diceva la Francesca e quindi io vi ringrazio per oggi Missione Mondo termina qui ci ritroviamo per la prossima volta grazie arrivederci Grazie Grazie